La Sabatino Impianti Tecnologici e Investimenti SRL con sede a Cava dei Tirreni in via Gaudio Maiori 83B è una solida ed affermata realtà industriale che si avvale di un importante studio di progettazione interno. Non è prevista nessuna chiusura del pronto soccorso del presidio di Cava dei Tirreni. A smentire categoricamente le voci che da qualche settimana circolano nella città metelliana è stata direttamente la direzione generale dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno che ha bollato come infondate e strumentali alcune notizie apparse sugli organi di stampa. L'azienda, pur ammettendo la presenza di evidenti e tangibili difficoltà che coinvolgono il pronto soccorso di tutti i nosocomi italiani a causa della carenza di personale, ha tenuto a precisare che non è assolutamente prevista la sospensione delle attività di urgenza dell'ospedale metelliano. Dalla direzione del Ruggi inoltre fanno sapere che prosegue il percorso di riqualificazione strutturale del Santa Maria dell'Olmo. Infatti sono già in corso di definizione e o adozione sia misure di ordine organizzativo che di reclutamento di dirigenti medici chirurgici e di accettazione d'urgenza, le cui prove si terranno il prossimo 28 settembre. In conclusione l'azienda conferma il proprio impegno nel continuare ad adottare ogni possibile iniziativa che garantisca la funzionalità e la continuità dei servizi, a partire da quelli dedicati alle attività di pronto soccorso.